Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Francesca, sono la coordinatrice di A di Torino e A di Polito e sono qua in realtà semplicemente per dire due parole sulla nostra associazione e sul nostro evento che abbiamo creato esattamente un anno fa più o meno, che si chiama appunto Cervelli in Cinta ed è un evento divulgativo organizzato da noi e loro due sono i nostri volontari che oggi ci faranno un po' capire di che cosa si tratta questo evento divulgativo. Allora, giusto due parole, A di Polito nasce un po' così a caso, esattamente l'anno scorso, nel 2021, trovandoci al bar, bevendoci un caffè e guardandoci negli occhi tra amici e colleghi ci sono detti ragazzi ma manca un'associazione per dottorandi, abbiamo guardato le liste delle associazioni studentesche scritte all'albo del Politecnico di Torino e ce ne sono immense, infinite e ad un certo punto ci sono detti però qua dottorandi, niente, vabbè dai, creiamo un'associazione. Abbiamo creato un'associazione chiamata appunto A di Polito. In realtà A di Polito fa riferimento a un'associazione un pochino più grande che si chiama A di Torino che lavora appunto sia presso l'Ateneo, il Politecnico di Torino, sia presso Unito e fa riferimento poi a un'associazione ancora più grande che invece lavora in sede nazionale che si chiama A di per l'appunto associazione dei dottorandi e delle dottorande e dottori e dottoresse di ricerca in Italia. Allora le nostre attività sono molteplici, poi appunto comunque l'associazione A di Polito iscritta all'albo delle associazioni studentesche di Politecnico di Torino è molto giovane però pur essendo molto giovane abbiamo molte attività. Allora prima fra tutte la rappresentanza. Noi come dottorandi abbiamo la possibilità di avere un rappresentante dei dottorandi e delle dottorande in Senato, tre in scudo e uno al Cug. Ovviamente la rappresentanza c'è nel momento in cui vediamo delle problematiche l'unico modo per risolverle ovviamente è quello di comunicare, trovare un canale di comunicazione con le istituzioni. Quindi la rappresentanza per noi è fondamentale in quel senso e cerchiamo ogni volta di trovare dei candidati e delle persone interessate per appunto per la rappresentanza. E poi gli eventi culturali, prima fra tutti i cervelli in città, orientamento agli studenti, stiamo facendo delle guide per le matricole ai dottorandi, feste di matricolazione, open days eccetera eccetera. E poi promozione e valorizzazione del dottorato. In tal senso lavoriamo sia con degli eventi promossi anche dall'Ateneo e dal Politecnico stesso, sia in stretta collaborazione con la segreteria di ADI, quindi a livello nazionale, che in particolare per esempio ha un rappresentante del CNSU, Consiglio Nazionale dei studenti universitari e quindi grazie a lui, grazie a lei, riusciamo anche lì ad avere un canale di comunicazione per cercare di appunto promuovere e valorizzare la nostra categoria. E niente, quindi qua presentiamo cervelli in città. Allora, i nostri obiettivi di cervelli in città quali sono? Sono quelli di avvicinare i cittadini al mondo della ricerca di giovani ricercatori. Soprattutto, l'abbiamo notato, in pandemia ci sono state molte, diciamo, deficienze, tra virgolette, sulla scienza, sul mondo della scienza, ci sono state molte persone che hanno cominciato a dubitare dell'importanza della ricerca scientifica e quindi anche da lì abbiamo pensato, beh, proviamo effettivamente noi stessi a portare al mondo esterno la nostra la nostra esperienza. Effettivamente i dottori di ricerca, i dottoranni non vengono, cioè non sono così conosciuti. La nostra categoria non è una categoria molto conosciuta, sia a livello scientifico che a livello umanistico e quindi abbiamo pensato appunto a questo progetto e l'idea, quindi, gli obiettivi quindi alla fine sono due, sono molteplici. Il primo è quello di portare l'attività di divulgazione nella nostra città, ma non solo, non ci accontentiamo del centro, non ci accontentiamo di fare un evento di divulgazione in Piazza Vittorio, ma lo vogliamo portare fuori, in periferia. Quindi portare la ricerca scientifica e la ricerca non solo scientifica, comunque divulgazione in generale, il nostro lavoro fuori. E poi anche legare al territorio i giovani ricercatori. Samuele prima mi diceva, io l'altra volta ho fatto un evento, questo evento, questa divulgazione a Falchera, giusto? Mi sono molto affezionato a quella biblioteca, mai ci sarei andato. Quindi legare i giovani ricercatori al territorio e da una parte e dall'altra anche far far loro, insomma, delle esperienze di public speaking. Cosa abbiamo fatto finora? Quindi da un anno abbiamo fatto otto incontri in otto biblioteche civiche torinesi, una volta al mese. In totale abbiamo coinvolto 17 giovani dottorandi e dottorande, sia di Unito che del Politecnico di Torino. E chi era rivolto questo evento? A tutti, a tutti, uomini, donne, bambini, stranieri, italiani, tutti gli abitanti del quartiere stesso. E poi adesso abbiamo la possibilità, grazie anche a Biennale Tecnologie, di fare uno spin-off di Cervelli in Città che invece chiameremo Cervelli in Scuola, a questo punto che invece sarà un evento di divulgazione scientifica, sempre con questa trama, nelle scuole. Cervelli in Città e per il futuro, per il futuro di idee appunto ce ne sono, vogliamo continuare con questo progetto che secondo noi è molto importante e risulta, continua ad essere un progetto pieno di idee, vogliamo continuare assolutamente a farlo, magari espandendo, trovando altri contatti, magari non solo più in biblioteche ma da altre parti, però abbiamo bisogno di volontari e di persone interessate, quindi abbiamo bisogno di voi, se volete poi ci iscriviamo, ci contattiamo. Grazie mille, quindi finito qua, ringrazio i nostri due volontari che adesso vi faranno uno speaking su sviluppo sostenibile e transizione energetica. Buongiorno a tutti, vi presentiamo quelli che sono le nostre due presentazioni, sono abbastanza legate e abbiamo dato come nome alla presentazione scelte sostenibili, innovazione, produzione e consumo. Lo sviluppo sostenibile ha una definizione semplicissima, giusto due righe venute fuori ormai una trentina d'anni fa, dove appunto si diceva che lo sviluppo sostenibile è soddisfare le necessità del presente senza compromettere la capacità di soddisfare le necessità del futuro. Una definizione abbastanza chiara che però apre a un mondo, una vastità incredibile di sfaccettature e di difficoltà. Ci sono due punti fondamentali che voglio presentarvi oggi, sono solamente una parte di tutto quello che riguarda lo sviluppo sostenibile e sono legati alla produzione sostenibile e al consumo sostenibile. Di nuovo sono molto vasti entrambi i temi e in venti minuti è molto difficile precisare, raccontare un po' quali possono essere le difficoltà. Ho cercato due esempi più o meno calzanti che possono rendere l'idea e farvi ricordare, finita la presentazione, di cosa abbiamo parlato. Produzione sostenibile. Pensiamo al primo processo veramente sostenibile della storia, che è la trasformazione dell'acqua in vino. Adesso è difficile da credere perché trasformare l'acqua in vino è stato un processo sostenibile. In verità ci sono delle cose che tecnologicamente non riusciamo a fare. Per avere un materiale finito, avere un prodotto finito, non riusciamo a trasformare il 100% delle materie prime nel prodotto finito. Non riusciamo a non usare energia e soprattutto abbiamo anche degli scarti, dei rifiuti che non sappiamo come gestire. Fino ad ora, in millenni di tecnologia umana, tutto quello che produciamo genera un rifiuto e per noi ce ne siamo semplicemente disfatti. C'è un problema che è quello del consumo sostenibile. Possiamo vedere la Terra come se fosse un'astronave, un sistema isolato dove le risorse che sono presenti sono finite, non sono infinite e raggiungono un equilibrio. Significa che tutta l'acqua che usiamo viene o trasformata in vapore o trasformata in qualcos'altro, ma non cambia, non ce ne può essere una quantità superiore. Tutto il carbonio come elemento chimico che usiamo, che raccogliamo per esempio dal petrolio o da qualsiasi altra fonte fossile e l'ho immagazzinata in millenni, se non milioni di anni per poter diventare petrolio e la bruciamo in un'ora, due ore, in una tratta in macchina, diventa un'idride carbonica che rimarrà nell'aria per altri milioni di anni. Questo è un problema proprio di consumo rilevante e pone il problema della sostenibilità. Ma perché la ricerca nello sviluppo sostenibile? Riguarda tante persone, abbiamo detto che è un tema vasto, ognuno sta facendo la propria ricerca in tanti temi diversi, ma cosa la motiva? Quali sono le difficoltà dello sviluppo sostenibile? Sono principalmente tre, ce ne possono essere molte altre, ma principalmente tre, e sono pervasività, rilevanza e innovazione. Pervasività perché riguarda tutti, tutti i settori antropici che vi possono venire in mente hanno a che fare con la sostenibilità. Non ce n'è uno che non è legato alla sostenibilità, tutti consumano risorse, tutti le trasformano e tutti potrebbero farlo in una maniera più intelligente pensando anche al futuro e non solamente al presente. Tra l'altro sostenibilità in medicina è diversa dall'affrontare la sostenibilità in ingegneria chimica, dall'affrontarla in ingegneria industriale e in qualsiasi altro tema, perché sono cose legate all'ambito in cui vengono fuori. E poi coinvolgono le aziende e il tessuto economico sotto tantissimi punti di vista, sia del prodotto che del processo e dell'organizzazione. Le organizzazioni, le aziende adesso stanno vivendo una continua rivoluzione per via degli incentivi che possono essere europei o statali, per via delle nuove normative molto più stringenti, pensiamo all'Euro 7 di adesso, e dei cambiamenti del mercato, perché anche noi stiamo cambiando, anche noi vogliamo cose diverse dai prodotti che consumiamo, dai servizi di cui usufruiamo. E sono dei cambiamenti sociali e culturali non da poco, pensate per esempio all'auto elettrica, dalla battaglia che molti facciamo per l'auto elettrica, e al fatto che adesso stiamo bruciando molto più carbone e fonti fossili, vista la situazione di crisi per produrre energia elettrica. Rilevanza, riguarda il mondo intero, non c'è un punto nel mondo che può dire ok, io sono un'oasi felice, non avrò problemi di cambiamento climatico, non avrò problemi di scarsità di risorse, non avrò problemi di nessun genere legato alla sostenibilità. Una tecnologia è legata a pochi elementi e non sono infiniti. Il cambiamento climatico crea un aumento di pressione che varia per tutto il mondo, generando fenomeni atmosferici molto violenti. E in generale per affrontarli abbiamo bisogno di coordinazione internazionale, infatti parliamo in questi giorni di COP27. E innovazione. Perché innovazione è una criticità dello sviluppo sostenibile? Perché spinge la ricerca? Perché rischiosa? Servono tantissimi soldi che non possono metterli le persone, i privati come noi, non possono metterle le singole aziende e serve un coordinamento molto più ampio. Abbiamo bisogno di ricerca, abbiamo bisogno di enti pubblici, abbiamo bisogno soprattutto di portarle in giro per il mondo, abbiamo bisogno che i paesi più poveri, i paesi non sviluppati come il primo mondo, riescano anche loro a dare il loro contributo per lo sviluppo sostenibile. Queste un po' le motivazioni in breve. La mia attività di ricerca si concentra soprattutto sulla prima parte, nel cercare un po' di ottimizzare quelli che siano i processi produttivi per uno sviluppo sostenibile, per una produzione sostenibile. Come? Ci sono diversi problemi. Alcuni sono annosi della produzione ingegneristica, altri sono invece un po' più comuni, un po' più recenti, un po' più legati semplicemente alla sostenibilità. L'efficienza di processo, efficienza di sistema, molti adesso la vendono un po' come sostenibilità, ma il classico produrre di più spendendo di meno. Meno risorse, meno scarto, più ottimizzazione, sicuramente ha un risvolto, ma non risolve il problema della sostenibilità. È qualcosa che tutti cerchiamo, diciamo che ha più valore economico, anche ambientale, ma principalmente valore economico. L'equità, l'equità nelle risorse e l'equità nei prodotti finiti. Produrre più di quanto c'è richiesto è un costo per le aziende, pensate ai costi di magazzino e ai costi logistici. Produrre di meno è un rischio, è possibile anche di violare i diritti umani. Pensate per esempio alla produzione di energia. Produrre meno energia significa tagliare le necessità di qualcuno. Identificare le giuste fonti. L'innovazione adesso sta guardando a nuovi processi produttivi, sia energetici, sia industriali. Scegliere le giuste fonti di energia significa avere nuovi vettori. Pensiamo per esempio all'idrogeno, pensiamo a un mix energetico che possa includere anche il nucleare o molte altre fonti attualmente in fase di sperimentazione e di innovazione tecnologica. Questo per staccarci da quelli che sono i principali emittenti di gas e climalteranti. E infine i nuovi paradigmi, la mia ricerca. Economia circolare e simbiosi industriale. Sono dei paradigmi che cercano un po' di portare sia valore aggiunto economico che ambientale. Ve li racconto in breve. L'economia circolare aggiunge un nuovo attore al nostro schema che è il prodotto. L'economia circolare cerca di avere, di sponsorizzare non soltanto il riciclo dei prodotti finiti, ma infiniti riusi dello stesso prodotto. Stanno nascendo mercati secondari, terziari e successivi per riutilizzare lo stesso prodotto anche in altre fasce. Quel prodotto può essere anche smembrato, le sue componenti possono essere usate in altri processi produttivi, possono alimentare anche delle industrie che prima non esistevano. Pensate che l'Italia per esempio ha pochissime terre rare, molto necessarie per riuscire nell'industria tecnologica, che sono contenute nei nostri prodotti. Virtualmente se riuscissimo a recuperare tutte le terre rare, i materiali preziosi che hanno i nostri prodotti magari legati nelle cantine e negli scantinati, riusciremo ad alimentare un mercato che attualmente è molto stabile, basato soltanto sulle importazioni. Ma ogni alternativa non è uguale all'altra, perché andando verso il basso in questa piramide abbiamo bisogno di molta più energia, molto più lavoro e otteniamo molto meno. È molto meglio riusare, riciclare, che non arrivare all'inceneritore. L'inceneritore ci restituisce solamente energia, stiamo distruggendo materia per produrre energia. Simbiosi industriale, un po' meno nota, questa volta non parliamo di prodotto finito, ma parliamo di tutto il resto, tutto ciò che avviene durante il processo produttivo. Durante il processo produttivo noi abbiamo diversi scarti, l'energia si trasforma e diventa potenza termica, abbiamo acqua di lavaggio, acqua di processo, un'infinità di materiali che vengono resi, tra virgolette, innocui o poco inquinanti e riemessi in atmosfera, oppure mandate nelle catene del riciclo. Le aziende ultimamente, negli ultimi vent'anni, hanno sperimentato quello che è un modello già sperimentato in natura, quello della simbiosi. Nella simbiosi due o più enti condividono degli scarti per loro inutili, facendoli diventare materie prime l'uno dell'altro. In questo modo le aziende riescono ad avere diversi benefici, tra i quali innanzitutto esplorare altri mondi, perché aziende di filiere diverse, che non hanno collaborato nella stessa supply chain, iniziano a scambiarsi delle risorse che potrebbero diventare cruciali magari per nuovi mercati. Forniture più economiche, chiaramente un'acqua di processo di qualcun altro è più economica, di acqua naturale presa e dedicata a un uso industriale. Le interazioni positive non soltanto creano valore dei rifiuti, ma stimolano anche la ricerca tecnologica. Un caso ad hoc è quello di Kalonborg, in Danimarca, dove una simbiosi industriale fatta di decine e decine di aziende sta promuovendo una ricerca, una vastissima ricerca, per trasformare gli scarti di uno in materie prime dell'altro. In vent'anni hanno prodotto un quantitativo di brevetti incredibile, solamente loro, solamente questo distretto industriale. Perché? Perché tutto ciò? Qual è il problema principale? Nel cambiamento climatico un problema è quello delle emissioni di gas detti anche climalteranti. Il più banale di questi è l'anidride carbonica, quello di cui si parla di più, ma anche il meno pericoloso. Il metano, per esempio, è quattro volte peggiore dell'anidride carbonica. Il problema è strettamente energetico. Come potete vedere da questa slide, il 73% delle emissioni di gas e climalteranti è legato al settore dell'energia. E subito accanto potete vedere come questa energia è prodotta. La maggior parte dell'energia prodotta è tutta da fonti fossili, carbone, petrolio, gas. E tutto questo semplicemente nell'ultimo secolo, negli ultimi 150 anni. Quindi è necessario un cambiamento. Questo quando si parla di transizione energetica. Da un punto di vista tecnologico lascio la parola a Samuele. Grazie. Beh, direi che hai fatto un'ottima panoramica su quello che è lo sviluppo sostenibile. Direi che abbiamo capito tutti che l'energia è uno di quei settori, la produzione di energia, su cui dobbiamo investire, su cui dobbiamo cercare di portare avanti la scienza e la tecnica. E quindi vorrei parlarvi un po' di transizione energetica e di una delle possibili fonti energetiche che possono essere utilizzate per realizzare questa transizione energetica, nello specifico la fusione nucleare. Perché proprio la fusione nucleare? Innanzitutto perché negli ultimi direi due, tre, cinque anni se ne sta parlando tanto, se ne sta parlando veramente tanto, a volte a sproposito, altre volte in maniera un po' più corretta. Il fatto sta che se ne parla tanto e se ne parla anche da tanto. I primi discorsi, le prime teorie diciamo sulla fusione nucleare risalgono agli anni 40 del secolo scorso e dopo 80 anni ancora non abbiamo un reattore a fusione che effettivamente produce energia elettrica. Quindi quello che vorrei fare è cercare di rispondere un po' a queste due domande. Perché se ne sta parlando così tanto adesso e perché se ne parla da così tanto tempo e non abbiamo ancora una macchina che effettivamente funzioni? E per farlo vorrei portarvi un po' a spasso tra il processo di fusione nucleare, come funziona, ma soprattutto una volta che abbiamo capito come funziona da un punto di vista fisico, capire come effettivamente ingegnerizzare questo processo perché chiaramente la comprensione fisica è solo il primo passo e infine una breve panoramica su quelli che sono i progetti attualmente in atto per lo sviluppo di tecnologie di fusione nucleare per la produzione energetica. Quindi cos'è la fusione nucleare? Senza troppa fantasia, come dice il nome, cerchiamo di fondere due nuclei. Il nucleo che vi ricordo è composto da neutroni e protoni. Neutrone non ha carica, è interessante nella fissione nucleare, è interessante anche nella fusione nucleare perché lo utilizziamo poi come vettore energetico potremmo dire, ma quello che ci interessa soprattutto nel nucleo sono i protoni. I protoni sono carichi positivamente, quindi nel momento in cui voi prendete un atomo, strappate gli elettroni e avete solo un nucleo, il nucleo sarà carico positivamente. Bene, e vogliamo avvicinare questi due nuclei affinché fondano. Il problema qual è? Il problema è che, se vi ricordate, se qualcuno di voi ha studiato la repulsione columbiana, quando cerchiamo di avvicinare particelle, corpi, oggetti, carichi con la stessa carica, si genera una forza che tende a respingerli. Repulsione columbiana. Tanto più avviciniamo questi oggetti carichi con la stessa carica, tanto più questa forza aumenta e alla fine diciamo che arriviamo a una distanza tale per cui non riusciamo a realizzare fusione nucleare, ma la forza è talmente grande che non riusciamo a spingere più vicini questi due nuclei. E quindi che facciamo quando non sappiamo come risolvere un problema? Beh, l'uomo da sempre ha osservato la natura e osservando la natura alcune volte si trovano le risposte. La fusione nucleare è un processo che avviene da miliardi di anni nelle stelle, che continuerà ad avvenire per miliardi di anni e continuerà ad alimentare le stelle. E come fa ad avvenire nelle stelle? È abbastanza semplice da un punto di vista concettuale. Le stelle sono ad altissima, sono a massi di gas ad altissima temperatura e ad altissime pressioni. Più di centinaia di milioni di gradi e più di centinaia di miliardi di atmosferi di pressione, quindi centinaia di miliardi di volte la pressione che sperimentiamo tutti noi tutti i giorni per avere un'atmosfera sulla testa. E in queste condizioni di pressione e temperatura la forza che spinge i nuclei vicini è abbastanza grande da superare la repulsione colombiana, quindi nelle stelle questi nuclei riescono a fondere, liberano energia e mantengono le stelle attive e di energia nelle stelle ce n'è tanta. Quindi, ok, fisicamente sembra un buon processo promettente per produrre energia. Cerchiamo di semplificarci la vita sulla Terra e cerchiamo di metterci nelle condizioni più semplici per produrre questa energia. Quindi, poiché particelle cariche si respingono e tanto più sono cariche queste particelle o questi oggetti, i nuclei, tanto maggiore è la forza che li respinge, scegliamo i nuclei che hanno la minor carica positiva possibile. Quindi prendiamo nuclei di idrogeno, nello specifico due isotope dell'idrogeno, il deuterio e il trizio, e cerchiamo di fonderli. E la reazione di fusione nucleare di deuterio e trizio libera una particella alfa, o un nucleo di elio, un neutrone e dell'energia, sotto forma di energia cinetica di questi due oggetti, di questi due prodotti della reazione. E perché dobbiamo impegnarci così tanto? Perché dobbiamo ricreare le condizioni di una stella sulla Terra, che appunto è abbastanza difficile da fare, per produrre energia? Perché comunque la fusione nucleare ha dei vantaggi non indifferenti. I reagenti deuterio e trizio sono abbondanti, o meglio il deuterio è estremamente abbondante, lo trovate nell'acqua, si può esterare dall'acqua in maniera relativamente semplice, di acqua ce n'è parecchia nel nostro pianeta. Il trizio in realtà in natura non si trova, perché è un isotopo radioattivo, decade in pochi anni, ma può essere prodotto nel reattore stesso, i reattori quindi si autoalimentano, e quindi i reagenti sono abbondanti, perfetto, questo è un primo passo verso una fonte energetica sostenibile. Gli inquinanti, non vi sono inquinanti, come vedete dai prodotti della reazione, la particella, il neutrone, può essere pericoloso se siete in una stanza con tanti neutroni che girano, ma il neutrone viene stoppato nel reattore, nel mantello del reattore stesso, quindi non esce dal reattore, l'elio, il nucleo di elio, l'elio è un gas, è un gas nobile, è un gas inerte, non è inquinante, e quindi la reazione di fusione nucleare non produce inquinanti, perfetto. Ultimo punto, la fusione nucleare come processo fisico ha una caratteristica di sicurezza intrinseca. I prodotti della reazione sono diversi dai reagenti, questo cosa significa? Che se per qualche motivo perdiamo il controllo in un reattore a fusione della reazione di fusione stessa, comunque continueremo a bruciare deuterio e trizio, a produrre elio e neutroni che non possono alimentare la reazione, quindi fondamentalmente bruciando pian piano il deuterio e il trizio la reazione si va a spegnere in maniera spontanea e in questo caso quindi è diversa dalla fissione dove invece i prodotti della fissione, che sono neutroni, sono anche, potremmo definire, i reagenti della reazione perché il neutrone può generare ulteriori fissioni. E quindi da questo punto di vista la fusione nucleare è sicura intrinsecamente e questo ci fa molto piacere da un punto di vista energetico, soprattutto quando si parla di reazioni nucleari. Bene, fisicamente abbiamo capito come funziona, come ingegnerizziamo adesso questo processo, come riportiamo una stella sulla Terra. Esistono due tecnologie, due tecniche per fare ciò, confinamento magnetico e confinamento inerziale. Ora, non ho tempo di parlare di entrambi, quindi parleremo di confinamento magnetico perché quello è la tecnologia più matura per produrre energia, ma dico due parole sul confinamento inerziale perché è molto interessante. Praticamente nelle stelle deuterio e trizio sono in forma gassosa ed è quello che facciamo anche nel confinamento magnetico. Per il confinamento inerziale invece prendiamo due terri e trizio solidi, facciamo dei piccoli bersagli delle dimensioni di un centimetro e li mettiamo in una stanza. A questo punto costruiamo un impianto grosso come tre campi da calcio per produrre fasci laser ad altissima energia che vengono poi convogliati contemporaneamente da diverse angolazioni su questo piccolo bersaglio. rilasciamo una tale quantità di energia che la superficie di questo bersaglio implode su se stessa e il nucleo che è composto di deuterio e trizio, il nucleo di questo bersaglio, raggiunge temperature e pressioni così alte che si realizza in una razione di fusione nucleare e questo è il confinamento inerziale. Ma visto che il confinamento magnetico è appunto più maturo tecnologicamente per produrre energia, parliamo di questo metodo. Ora, come dice il nome, andiamo a confinare magneticamente il nostro bellissimo gas ad elevata temperatura e pressione. In questo stato della materia, quando cominciate a scaldare un gas a centinaia di milioni di gradi, il gas si ionizza, gli elettroni vengono strappati dagli atomi e quindi abbiamo particelle cariche che si muovono in maniera più o meno ordinata e non si chiama più gas, si chiama plasma. Magari qualcuno di voi ha sentito dire che il plasma è il quarto stato della materia. bene. Quindi abbiamo un plasma a cento milioni di gradi. Essendo però comunque un gas, voi capite che se inseriamo questo plasma in qualunque superficie, in qualunque volume chiuso, questo gas si espande e quando questo gas a cento milioni di gradi tocca la parete del volume, di qualunque materiale sia fatto questo volume, la fonde. Perché materiali che resistono a temperature più alte arrivano a 4-5 mila gradi. Abbiamo un gas a cento milioni di gradi, non possiamo confinarlo in un volume solido chiuso. Ma, poiché è un plasma, poiché è ionizzato, queste particelle cariche rispondono a dei campi magnetici. Se noi costruiamo, creiamo un campo magnetico, generiamo un campo magnetico sufficientemente forte intorno a questo plasma, queste particelle subiranno una forza che le mantiene confinate all'interno del campo magnetico stesso. E se vi mettete a ingegnerizzare un po' la questione utilizzando dei magneti superconduttori, si può generare un campo magnetico che ha una forma cilindrica al cui interno il plasma è confinato, non esce dalla superficie di questo campo magnetico, però può ancora scappare dalle basi. E allora che si fa? Bene, chiudiamo questo cilindro su se stesso. Quindi da un cilindro otteniamo una figura geometrica che è detta toro, o se preferite ciambella, e questo è il motivo per cui i reattori a confinamento magnetico hanno una forma toroidale. E se siamo riusciti a confinare il plasma, ottimo. In realtà vi ho detto abbiamo un gas a 100 milioni di gradi. Ok, questo nella Terra non è possibile. Il gas lo troviamo a temperatura ambiente. Dobbiamo quindi riscaldare questo gas fino alla temperatura delle stelle. E per fare ciò possiamo utilizzare tre diverse tecnologie che vengono sfruttate contemporaneamente nell'erettore a fusione. La prima è riscaldamento tramite radiofrequenze. Vi sono delle antenne nei reattori a fusione che emettono radiazioni elettromagnetiche, radiofrequenze, che vengono assorbite dal plasma e assorbendolo il plasma si scalda. Questo non è sufficiente. Si utilizza anche il riscaldamento omico. Pensate ai comuni forni elettrici che avete in casa. Il forno elettrico come funziona? Vi ha una resistenza. Quando lo accendete passa una corrente nella resistenza e poiché la corrente incontra una resistenza nel moto dissipa energia. L'energia che viene dissipata scalda il forno. Nel reattore a fusione è lo stesso principio. Il plasma agisce come resistenza. Induciamo una corrente che scorre nel plasma stesso e così facendo questa corrente, poiché incontra una resistenza nel circolare nel plasma, libera energia e scalda il plasma. Perfetto. Ultimo ingrediente. Particelle. Andiamo a sparare particelle neutre nel plasma ad altissima energia. Vogliamo che siano neutre perché devono penetrare il campo magnetico. Se fossero cariche verrebbero deflesse. Quindi spariamo particelle neutre ad altissima energia del plasma. Collidendo con il plasma rilasciano energia e scaldano il plasma stesso. Combinando queste tre tecniche riusciamo finalmente ad avere un plasma a 100 milioni di gradi confinato magneticamente. E l'ultimo problema qual è? Ebbè che abbiamo qualcosa a 100 milioni di gradi che emette energia. In fin dei conti è quello che vogliamo fare. Vogliamo produrre energia. E quindi emette energia sotto forma di radiazione. Vi sono particelle energetiche che vanno in giro per questo reattore. Qualcuna sfugge al confinamento magnetico e quindi dobbiamo raffreddare tutti i componenti che costituiscono il reattore stesso che è l'ultimo ingrediente. E quindi in cinque minuti abbiamo progettato un reattore a fusione funzionante. Ora nel pratico questo è come dovrebbe più o meno essere progettato un reattore a fusione per la produzione di energia elettrica. Questo è ITER e vedete nel centro quello in rosetto è il plasma. Ha una figura, ha una forma D. All'interno di questa camera in cui è fatto il vuoto vi ha il plasma e all'esterno ci sono tutti i componenti che servono al funzionamento dei reattori. Magneti superconduttori, il mantello, antenne di radiofrequenza e così via. Perché non abbiamo ancora questa macchina per produrre energia? La risposta è semplice perché è dannatamente complessa. potete vedere qua questo è un impianto a fusione quindi non solo il reattore ma anche tutto quello che c'è intorno e beh vi sono tanti componenti. Voi dovete sviluppare queste tecnologie, noi vorremmo sviluppare queste tecnologie, le stiamo sviluppando. Una volta che sono sviluppate, sono mature, dobbiamo integrarle tra di loro, farle lavorare continuativamente per anni in un sistema in cui vi sono altissime temperature, vi sono radiazioni, al tempo stesso vi sono anche bassissime temperature perché vi sono impianti criogenici, insomma è abbastanza complicato. Quindi il motivo per cui non abbiamo reattore a fusione ancora per produrre energia elettrica è perché è complicato. E cosa si può fare? Beh, se siete interessati ad esempio a lavorare nel campo, volete capire più o meno cosa facciamo noi ricercatori quando lavoriamo in reattore a fusione, vi dico in due parole quello che faccio io. Io mi occupo per esempio di raffreddamento del mantello, quindi abbiamo il plasma a 100 milioni di gradi, lì fuori quelli in arancione sono dei magneti che sono meno 270 gradi, quindi in due metri avendo un salto termico di 100 milioni di gradi e nel mentre volete raffreddare quindi tutto ciò che c'è nel mezzo, che è il mantello stesso del reattore. Quindi mi occupo di capire come raffreddare questo simpatico sistema che permette ai magneti di sopravvivere. Come produrre trizio? Vi dicevo, i reattori a fusione producono trizio al loro interno. Bene, si può produrre trizio sfruttando i neutroni che vengono prodotti dalle razioni di fusione e una volta che abbiamo prodotto trizio lo mandiamo all'interno di un ciclo che lo purifica e lo riprepara per essere iniettato nel reattore come combustibile fresco. E mi occupo anche un po' di sicurezza perché vedete un macchinario abbastanza complesso, lì c'è una persona e volete garantire la sicurezza di quella persona che lavora lì, per esempio, di tutti quelli che sono intorno al reattore. E infine di produzione di energia. E questa slide che quasi conclude un po' il discorso è una slide bellissima nonostante l'estetica terribile del grafico perché credo mostri i progressi effettivamente che sono stati fatti nella fusione nucleare. Appunto si dice spesso ok alla fusione nucleare se ne parla da 80 anni non abbiamo un reattore non abbiamo fatto progressi. Vero che non abbiamo un reattore non è vero che non abbiamo fatto progressi. Come funziona? Allora nell'asse X vi sono gli anni, il tempo. Nell'asse Y vi ha una misura delle performance della tecnologia che stiamo studiando. La curva in rosso mostra le performance dei microchip, diciamo chip di elettronica, dagli anni 70 al 2000. Quindi siamo partiti negli anni 70 con computer grossi in metà di questa stanza, una memoria risibile, prestazioni risibili, siamo arrivati nel 2000-2005 con degli smartphone. Quindi abbiamo condensato un computer grande come metà di questa stanza in qualcosa del genere molto più potente. Siamo tutti d'accordo che sono stati fatti progressi enormi nel campo dell'elettronica. Se osservate la curva blu vedete che in realtà la curva blu arriva anche più in alto di quella rossa e quella curva blu mostra le tecnologie per la fusione nucleare, i reattori a fusione sperimentali e vedete che effettivamente sono stati fatti progressi. Qual è il punto? Che i progressi che abbiamo fatto non sono sufficienti a raggiungere il nostro obiettivo che si trova lassù, la linea tratteggiata, ITER e poi un impianto a fusione. Perché? Perché serve più tempo, serve sviluppare tecnologie ancora più avanzate. Però progressi ne sono stati fatti, li stiamo facendo e quindi vediamo un po' nei prossimi anni cosa si prospetta. ITER è un progetto internazionale, bellissimo progetto, collaborazione internazionale tra le maggiori potenze del mondo, progetto che iniziò negli anni 80, quindi vedete partecipano India, Russia, Cina, Stati Uniti, Unione Europea, Corea, Giappone, veramente una collaborazione internazionale. L'obiettivo di ITER è quello di andare a investigare un po' la fisica dei reattori a fusione da fare da ponte tra le attuali conoscenze e le conoscenze che ci serviranno per operare un impianto di produzione di energia elettrica. Infatti ITER non sarà un impianto di produzione di energia elettrica, sarà solamente un esperimento, non è prevista produzione di energia elettrica da ITER e inizierà l'operazione intorno al 2025-2026. Demo invece, che sarà il successore di ITER, produrrà per la prima volta energia elettrica. Sfruttando un po' tutte quelle esperienze che avremo accumulato da ITER, arriveremo finalmente a produrre energia elettrica del 2050, un po' lontano. Però nel mondo si stanno affacciando anche compagnie private, alcune startup o partenariati pubblici privati che cercano di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi di ITER e Demo in meno tempo. In alto vedete ad esempio SPARC e poi ARC, che è di una compagnia americana, startup americana. Questo qua è un reattore a fusione sferico di una compagnia inglese, TOCAMC Energy. L'ultimo è un reattore molto particolare di un'altra compagnia americana e tutti questi startup puntano a produrre energia effettivamente tra il 2030 e il 2035. E quindi tutto ciò per dirvi cosa? Bene, che effettivamente la fusione nucleare può essere una fonte energetica utile per la transizione energetica, può andare a rimpiazzare tutte le fonti fossili fondamentalmente perché ha caratteristiche di produzione di energia elettrica simile e è sicuramente appunto un'arma in più che abbiamo nella lotta al cambiamento climatico per realizzare una transizione energetica e rendere il mondo un po' più sostenibile. e quindi con questo io concludo anche la mia parte. Adesso se avete domande per me per Claudio o commenti sono benvenuti. Milancio energetico per fare quel lavoro lì, nel senso che dobbiamo creare questa pressione pazzesca, aumentare la temperatura del gas e così via. Quindi impieghiamo un sacco di energia. rispetto a quello che poi produciamo e anche questa è una parte su cui si sta lavorando? Ottima domanda, grazie per la domanda. Esatto, infatti ITER che come vi dicevo sarà un esperimento fondamentalmente di fisica, sarà una macchina energiora, quindi realizzeremo reazioni di fusione al suo interno ma per buona parte degli esperimenti consumerà più energia di quella che libererà. motivo per cui infatti non è stato progettato per produrre energia elettrica. Verso la fine delle operazioni si cercherà di arrivare al punto tale per cui tutti i sistemi di riscaldamento che consumano moltissima energia ad esempio, tutti i sistemi di raffreddamento, le pompe e quant'altro, tutta l'energia richiesta per operare questi sistemi sia bilanciata esattamente dall'energia liberata dalla reazione di fusione. In seguito DEMO, che sarà appunto il progetto dell'Unione Europea per un reattore per la produzione di energia elettrica, cercherà di produrre energia netta, quindi con un input di potenza comunque elevato, centinaia di megawatt elettrici, quindi parliamo di una quantità abbastanza consistente, bene DEMO comunque restituirà alla rete elettrica più energia elettrica di quella che richiede, altrimenti non sarebbe un impianto di produzione di energia elettrica e appunto motivo per cui vi sono anche 25 anni di differenza tra l'inizio delle operazioni di DEMO e quelle di DEMO, perché comunque il passaggio non è immediato. Queste start-up puntano a immettere energia netta nella rete elettrica tra dieci anni, sfruttando degli avanzamenti tecnologici negli ultimi anni come magneti superconduttori ad alta temperatura, quindi vi è anche in parallelo uno sviluppo tecnologico, non necessariamente sulle tecnologie di produzione dell'energia elettrica, ma su sistemi ausiliari per il funzionamento dei reattori che permettono di abbattere il costo di energia elettrica in input dell'elettore a fusione e quindi rendere più semplice produrre energia elettrica netta. Questa non è una domanda, dicevo semplicemente che comunque questo lavoro qua, come dicevi tu prima, il discorso dell'economia circolare, porterà comunque un sacco di vantaggi in ogni caso su risparmi energetici in altri settori, perché chiaramente tutto il confinamento di cui si parlava dell'energia eccetera, porterà a idee e brevetti che potranno essere utilizzate su altri settori e quindi di riflesso comunque prima di avere il vantaggio grosso della produzione avremmo almeno probabilmente delle ricadute sul risparmio. Sì, l'idea è quella, tra l'altro la filiera di tutta la componentistica e costruzione dei reattori a fusione può essere in larghissima parte locale, per locale ovviamente intendo europea e quindi si ha anche un indotto diciamo da un punto di vista di lavoro, da un punto di vista dell'economia non trascurabile e in più sperabilmente permetterà di produrre energia in maniera economica, questo ancora va dimostrato. Ciao, mi scuso se la risposta a questa domanda c'è già stata prima perché io sono arrivato un po' più tardi, scusatemi. L'idrogeno dove lo prendiamo? Cioè nel senso nel momento in cui noi tiriamo le somme sulla quantità di energia che riusciamo a ottenere, quindi anche la quantità di energia che abbiamo speso per poter ottenere l'elio dalla fusione nucleare, l'idrogeno è una parte importante di tutto questo, cioè da qualche parte lo dobbiamo prendere, no? E non lo so se già vi siete posti le domande su come ottenerlo, che so, elettrolisi ad alta temperatura, già che abbiamo già delle alte temperature o altre metodologie, quindi questa è la prima domanda. E la seconda domanda è l'elio, sì è vero è un gas inerte, però è comunque un prodotto di scarto, poniamo che tutto il mondo adesso iniziasse a fare fusione nucleare, un'eccessiva produzione di elio, poi come la gestiremmo? Ok ok, la seconda domanda è abbastanza interessante, perché parto rispondendo alla prima, come otteniamo il deuterio e il trizio, che appunto sono isotopi dell'idrogeno, quello è abbastanza semplice, appunto basta prendere dell'acqua, acqua di mare, e mediante tecniche di separazione isotopica, quindi prima viene chiaramente fatto evaporare per elettrolisi, dopo di che si separano, si separa il deuterio dall'idrogeno nell'acqua, perché vi è una particella di deuterio ogni 6.000 di idrogeno, quindi in realtà come il rapporto è abbastanza vantaggioso, sembra, ok, è molto poco se pensate che vi sono centinaia di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi di particelle in pochi grammi di acqua, vi è molto deuterio in secchio d'acqua, e questo perché funziona? Perché la fusione nucleare attualmente è il processo con più alta densità energetica che conosciamo, quindi bastano grammi di deuterio e di trizio, quindi grammi di idrogeno, per alimentare oltretto la fusione. Seconda domanda sull'elio, per lo stesso motivo l'elio che viene prodotto sono grammi, quindi in realtà l'elio che liberiamo tramite reazione di fusione, ad esempio, è inferiore a quello che potresti aver consumato venendo con un mezzo pubblico in macchina qua, quindi in realtà da un punto concettuale è una domanda molto interessante, da un punto di vista quantitativo non ha questo grosso impatto, è un gas che si trova in natura, quindi può essere anche rilasciato in ambiente. In realtà si pensa anche di sfruttarlo da un punto di vista economico perché un isotopo dell'elio, quindi non l'elio 4 che viene prodotto, ma l'elio 3, è estremamente raro e si usa per fare alcune strumentazioni molto avanzate, partendo dall'elio 4 si può produrre dell'elio 3, quindi in qualche modo si può anche sfruttare economicamente, sempre in ottica di economia circolare direi. Una domanda giusto per curiosità, visto che l'elio, ricordi un po' passati, si utilizza anche per i refrigeratori, quindi per i criostati, si potrebbe riutilizzare, reimmettere nel circolo per possibilmente raffreddare? Allora, tecnicamente costa troppo e nel momento in cui tu stai utilizzando dell'elio per raffreddare, corretto tra l'altro, l'elio è utilizzato per raffreddare i magneti, che sono quegli arancioni, elio supercritico, insomma abbastanza avanzato anche questo come tecnologia perché siamo a meno 270 gradi, l'elio è utilizzato però essendo in un circuito chiuso, quell'elio, non abbiamo bisogno di rimpiazzare quell'elio fortunatamente, quindi ti direi no, ma perché no, magari appunto non è una priorità nel mondo della fusione, perché appunto quei magneti verranno raffreddati con un circuito chiuso, però direi che le possibilità poi sono abbastanza varie e sicuramente potrebbe essere un processo di ottimizzazione in realtà che verrà implementato in futuro, appunto non come priorità alta in realtà la fusione. Abbiamo ancora dieci minuti, quindi dubbi, commenti, qualunque cosa direi. No, allora volevo solo chiedere perché prima avevi detto allora che i due elementi in ingresso sono il trizio e il deuterio e all'inizio avevi detto che diciamo è un qualche cosa di sicuro perché comunque sia non c'è possibilità che il prodotto della fusione ritorni come in ingresso e quindi alimenti la cosa, però in realtà prima hai detto che l'operazione crea del trizio, quindi in realtà ci potrebbe essere un ritorno almeno per la parte trizio, però non basta perché ci vuole anche il deuterio. Ok, ottima domanda, stato attentissimo. Allora, giusta la domanda, in realtà non avviene questo perché il trizio, e tra l'altro mi sono occupato negli ultimi sei mesi esattamente di questa problematica, il trizio che viene prodotto, viene prodotto fuori dal reattore e i processi per estrarlo, viene prodotto nel mantello, i processi per estrarlo dal mantello e riprocessarlo che avviene in parte in questo impianto sono così complessi e così lunghi, ci vogliono più o meno, ci vuole un giorno diciamo perché il trizio prodotto riesca a ritornare nel reattore stesso e non è una cosa che avviene naturalmente, vi sono una decina di componenti tra pompe e sistema di iniezione del combustibile che devono funzionare, quindi non è qualcosa che avviene spontaneamente, è estremamente controllato e pertanto non vi è questa possibilità, diciamo. Sarebbe bello se si riuscisse a riutilizzare direttamente quel trizio perché risolverebbe veramente tanti problemi ingegneristici. Bene, io direi se non ci sono altre domande, vi lasciamo andare, grazie tra l'altro per essere stati così coraggiosi e venire ad ascoltarci alle 9.30 di sabato mattina. Grazie. 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 Grazie.